Sfuggito alla cattura il 26 gennaio scorso, nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Game Over, coordinata dalla DIA di Lecce, è stato arrestato dalla polizia in un appartamento del Rione Tamburi, nel capoluogo ionico. Si tratta di Cosimo Morrone, pregiudicato, 61 anni di Taranto, arrestato insieme ad un altro uomo, arrestato per favoreggiamento personale. Nell'abitazione in cui si nascondeva Morrone, gli agenti della scuola mobile hanno sequestrato anche due pistole. Nel corso del blitz di gennaio venne eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone di età compresa tra i 52 e i 21 anni, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'illecita detenzione, trasporto e commercio di ingenti quantità di ruina, cocaina ed hashish. L'operazione vide impegnati un centinaio di agenti, nonché personale delle questure di Bari, Lecce, Reggio Calabria, Amatere e dei reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, supportati da un elicottero del reparto volo di Bari.